Monica Bellucci, i figli, il lavoro, la sua vita. Dopo i 60 anni, andando avanti con l'età ci si sente più leggere e più libere e nella vita prende anche forma una sorta di distanza. Certo, resta sempre una grande passione e un grande amore per il lavoro e per quello che si fa, ma c'è una distanza maggiore perché ci sono cose più essenziali, per quanto mi riguarda. Poi ogni donna ha il suo percorso. E io non penso che una donna si ritenga una donna perché fa dei figli, assolutamente, tu puoi fare la scelta di non fare figli, avere la tua vita e il tuo percorso. Io ne ho avuti e questo ha cambiato moltissimo per me, per cui oggi tutto il resto, ancora oggi, viene in secondo piano. Bellucci si racconta a tutto tondo, ospite della seconda edizione italiana dell'evento di Vogue of Forces of Fashion, oggi a Roma, al mattatoio di Testaccio, parlando del suo lavoro ma anche di temi più intimi e personali, a partire dalla famiglia e l'amore, passando per i ricordi del passato e degli esordi della sua carriera. L'attrice, cover star del numero di ottobre di Vogue Italia, raccontandosi alla scrittrice e sceneggiatrice Chiara Barzini sul palco di Forces of Fashion, sottolinea, ancora, ho fatto delle scelte precise, e anche il fatto di aver avuto i figli in tarda età, che non è assolutamente un esempio da seguire perché comunque si prendono dei rischi, va detto, Ma quando ho avuto figlio ho avuto anche il tempo di potermene occupare, perché quello era un momento giusto per me. E ancora, Reduce dal film Beetlejuice Beetlejuice, diretto dal regista e suo compagno Tim Burton, Monica Bellucci si sofferma sul suo personaggio, Dolores, la protagonista del film che è piena di cicatri. Questo sì, dice, mi fa pensare alla vita e alla metafora della vita, per cui tutti abbiamo tante cicatrici e ferite interiori che hanno toccato la nostra emozione. E penso che nella vita, prosegue l'attrice, si debba sempre cercare di andare al di là delle nostre sofferenze, e quando queste vengono ricucite diventano cicatri. Questo personaggio mi fa pensare molto alla vita, e nei film di Tim, il Burton NDR, c'è molte volte questo effetto metafora che lascia spazio al sogno, al sogno di ognuno di noi. La paura Fare l'attrice è un lavoro dove non si finisce mai di imparare. E ciò che mi piace è questa tensione, questa paura che ho prima di iniziare un film o prima di entrare in scena, se sono a teatro. Ho fatto tre anni di teatro e la paura non mi ha mai lasciata. All'inizio pensavo fosse una paura iniziale, una sensazione e un tremore che sarebbero svaniti, e invece ce l'ho avuta alla prima al Teatro Marigni di Parigi e all'ultima rappresentazione al Bicon Theater di New York. Quindi forse la paura è una forma di forza, qualcosa che ti dà accesso all'anima, per me è un motore. Ma è anche una forma di profonda sincerità, di autenticità. E questo il pubblico lo sente tantissimo, ha poi aggiunto.